Non c'è tempo per i convenevoli Osiride. Porto meste notizie. Le mie tecnidi hanno provato a dare un senso alle strategie di Xivuarat. Comanda eserciti immensi, maschiera forze minime in battaglia. Forze minime? Per ogni endofuria neutralizzata ne arrivano altre due. Potrebbe inviarne anche dieci. Perché dunque moderarsi? Il suo verme si nutre di guerra. Più violento è l'atto, maggiore è il potere che ne trai. Come il verme di Savaton, nutrito da astuzia e inganni. Mi stai dicendo che... Non è una guerra. È un rituale. Le sue cantamorte intessono la loro magia e si preparano a un grande sacrificio. Ad ogni modo i nostri piani non cambiano. Riprendiamo i Walsat ed estrippiamo volendo furia. Proprio come vuole Xivuarat. I Walsat hanno una potenza immensa. Utilizzarli porterebbe una distruzione senza uguali. A lei non importa chi verrà annientato. Il suo verme, in ogni caso, godrà della carneficina. Sacrificherebbe le proprie armate. E i Walsat sarebbero la lama assassina. La forza soverchiante si è rivelata l'unica strategia efficace contro l'alveare. Senza di essa io... io non so che cosa fare. Allora ti suggerisco di scogitare qualcosa in fretta. Informerò l'avanguardia di queste scoperte. 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 scoperte.